Ciao a tutti ragazzi, sono J.K.Bish e oggi siamo qui con questo nuovo video su GTA V e in questo video vi farò vedere 5 Toog Life del gioco. Cominciamo col primo. Allora, Michael, Trevor e Franklin, quando ha mettuto il super salto, allora non gliene frega niente se cadono, perché continuano a sparare, guardate. Guardate, continua a sparare. Prima addirittura ha ammazzato una persona così. Ci vediamo subito col secondo Toog Life. Eccoci qua col secondo Toog Life, che consiste nel lanciarci sul palazzo della Fib e vedere se si rompe il vetro. Eccolo qua, Fib. Come avete visto, il vetro non si rompe. Raga, se poi però voi andate e tirate i calci sul vetro, il vetro si rompe però se tirate i calci sopra. Guardate, e la bug è che se tu ti lanci con la caduta dal cielo sopra il vetro, il vetro non si rompe. E poi, questo qui era il secondo Toog Life. E allora, però, se rompe il vetro, perché qua non si può entrare? Guardate, anche i proiettili entrano. Guardate. Cioè, si fermano qua. Sembra che c'è un altro vetro sotto, invisibile. Va bene, raga, ci vediamo con il terzo Toog Life. Raga, eccoci qua con il terzo Toog Life. Che ci dobbiamo lanciare qua giù senza invincibilità. Come vedrete, c'è scritto trucco, invincibilità disattivato. Bene, ci lanceremo col telefono. Guardate che morte farà. Splop. La top 5 dei Toog Life è quasi finita. Col quarto Toog Life. Vai. Qua il quarto Toog Life. Quando rubate l'auto a un operaio, poi rivuole l'auto. Guardate. Lui vi butta fuori, fa tanto il figo, che poi, se prendete un fucile, anche senza munizioni, o un coltello, se ne scappa via. Cioè, questo qui è proprio un grande Toog Life, perché prima fa tanto il gradasso, poi se ne va via, soltanto se vede un coltello. Vediamo dopo con il quinto Toog Life. Raga, eccoci qua con il quinto Toog Life. Allora, come vedete siamo al dipartimento di polizia. Voi, potete anche mettere un fucile, tanto non vi fanno niente. Poi lo togliete, se solo gli andate così, dopo un po' cominceranno a spararvi. Guardate, eh. Vedete? Ho anche ucciso per un poliziotto. Va bene, raga, questo Toog Life, questi cinque Toog Life si sono conclusi qua. Per oggi è tutto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!